Un uragano minaccia la Florida. Hermin ha guadagnato forza con venti che hanno superato i 120 chilometri orali. La tempesta tropicale si è trasformata in uragano di categoria 1 prima del previsto e si sta dirigendo velocemente verso il sud ovest del Sunshine State. Nel giro di qualche ora si abbatterà sulle coste della Florida. Numerose scuole resteranno chiuse. Badate bene, non possiamo salvarvi durante una tempesta. Siate responsabili durante il passaggio della tempesta. Faremo tutto il possibile per aiutarvi, ma siate responsabili. Quando saremo in grado di inviare i primi soccorsi in sicurezza lo faremo, ma se tutti sono preparati non ce ne sarà bisogno. I supermercati sono stati presi d'assalto e il governatore della Florida, Rick Scott, ha dichiarato lo stato di emergenza e è stata inoltre ordinata l'evacuazione di alcune contee lungo la costa. Stiamo fissando dei pannelli alle finestre e l'uragano dovrebbe colpire tra poche ore qui a Cedar Key. Proteggiamo le proprietà, ma non si può fare molto contro madre natura. La Florida è già stata colpita da Vilma di categoria 5 nel 2005, classificato come uno tra gli uragani più violenti che abbia mai colpito l'emisfero occidentale. La Florida è stata colpita da Vilma di categoria 5 nel 2005,